Salve a tutti ragazzi, penso che abbiamo assistito a un'anticipazione delle amichevoli estive cioè quello che accadrà in estate, oggi Napoli non è che ha giocato proprio male diciamo abbiamo giochicchiato come un po' giochicchiamo da molto tempo non è facile giocare senza stimoli, giocare con questo clima psicologico dopo quello che è accaduto settimana scorsa, poi ovviamente il nostro presidente che io nonostante tutto amo tanto ci mette del suo per alimentare le polemiche che dici no, già Napoli non ha un ambiente che sta a chi ne stress e a chi ne pressione poi ci metto pure tu, chi mi segue lo sa, io ho grande stima di De Laurentiis ma non perché De Laurentiis, ma solo perché è il presidente del Napoli e non mi va di attaccare il mio presidente, ma ciò proprio per non fare autolesionismo cosa che molti diffusi del Napoli oggi non hanno fatto perché non apprezzo il fatto che i cori contro De Laurentiis perché è sempre il nostro presidente, è sempre il nostro presidente del Napoli sì, si può criticare tutto quello che vuole, ma quello che è successo oggi a San Paolo diciamo, non dico che è vergognoso nemmeno scambio su cose su certi domenici però, già sto schifato, onestamente sto quasi odiando il calcio un po' come mettete pure a fare queste cose anche quello che è successo fuori allo stadio con Alvino, non so se l'avete visto tifosi del Napoli che hanno stoppato Alvino vattene, non vattene, ma che sono queste cose perché mi fanno queste figure di merda ah, perché? perché Alvino, ma ciò, sarà pur un lucchino un papà boi, stai chiedendo che dici tu ma, cioè, siamo tutti arrabbiati è un clima un po' infuocato io magari sfogo la mia rabbia ma ciò con una faccia appesa, con la tristezza oggi dovevo andare allo stadio e ciò ci dico che in deniva è genia però sfogare questa frustrazione così non mi sembra giusto della partita di oggi cosa salvare? vabbè, Mertensi è ritornato al gol nel suo compleanno ok, tanta cura Mertensi non è che ho venuto mai, non lo so il centesimo gol di Mertensi il centesimo gol di Amnesi che gol ha fatto Marek Amnes capitato, l'unica cosa che stava è un'altra cosa che voglio salvare ma ciò, ho dato uno schiaffetto al pubblico di San Paolo diamoci anche la caramella perché a fine partita hanno applaudito hanno capito l'impresa che ha fatto in Napoli questo campionato manca ancora la matematica certezza ma penso che è della Juve ma lo era già ci abbiamo provato contro Torino che ora ci vuoi escire in campo non dico che il riservo ma manca a Belotto che cazzo riusciamo a battere questo Torino però capisco che non ne fa c'è pure il successo non mi mancano proprio le forze mi mancano proprio un genio a voglio quindi voglio immaginare i giocatori del Napoli che già stanno lavorando in vacanza ma quando fanno finire questo campionato non penso che stanno finire in vacanza ok avete fatto un grandissimo campionato siamo tutti con voi vi apprezziamo vi stimiamo e vi rispettiamo però salviamo almeno l'orgoglio salviamo cioè facemmo figure in merda è brutto arriva a fine cambiato da un punto dalla Juve non per chi se proprio non farà la rete enorme ma ne arriviamo a 10 punti dalla Juve perché poi si sminuirebbe tutto il bel campionato che abbiamo fatto è giù da così mamma mia non dico stanno a pigliare scuola però speriamo che domenica a Genova con la Sampadona cioè giochiamo per l'orgoglio o scudette di tutti almeno giochiamo per l'orgoglio mamma mia calma mia e ti affroni stu campionato ciao ciao